Giovanni della Croce è il dottore classico della teologia mistica. Nato a Fonteviros in Castiglia nel 1542 da una famiglia nobile però decaduta, ricevette la formazione intellettuale nel collegio dei gesuiti mentre prestava servizio come infermiere presso un ospedale. Nel 1563 abbracciò la vita religiosa presso i fratelli carmelitani della Vergine a Medina del Campo. Poi dopo aver rinunciato a farci certosino perché aveva conosciuto Teresa Davila entrò nell'ordine carmelitano conquistato dalla riforma che la Santa aveva avviato per riportare le comunità alla regola primitiva che era stata redatta verso il 1209 ma si era molto attenuata nel 1431. Allora con due compagni iniziò la sua opera a Duruelo nella vecchia Castiglia, poi a Mancera, a Pastrana come maestro dei novizi e per 16 mesi nel collegio universitario di Alcalà. Nel 1572 e fino al 1577 fu confessore delle carmelitane del monastero dell'Incarnazione a Davila appunto dove Teresa lo aveva presentato come un padre che è un santo. Sennò che nel 1575 un capitolo generale dei carmelitani a Piacenza emise un giudizio severo contro i riformatori considerati ribelli, disobbedienti e contumaci. Giovanni nel 1577 fu adattire rinchiuso in una cella a Toledo, allora anche i conventi avevano le celle per i frati, per rinchiudere i colpevoli, e rimase per nove mesi durante i quali subì pene fisiche e morali fino all'angoscia mistica del Gezzemani che lui descriverà poi nel cantico spirituale. Per intervento della Madonna riuscì a fuggire, calandosi, rischiando di sfracellarsi anche, fuggì presso delle carmelitane che lo nascosero, poi passò in Andalusia trascorrendovi il resto della sua vita, prima come superiore e fondatore del convento di Baessa 1579. Cominciando lì a redigere la salita al Monte Carmelo e Notte oscura dell'anima, quindi come priore a Granada nel 1582, dove ultimò il cantico spirituale e scrisse La fiamma viva d'amore. Nel 1588 fu priore anche a Segovia, ma lì venne marginato dal capitolo generale di Madrid nel 1591. Morì pochi mesi dopo, il 14 dicembre, nel convento di Ubeda. Canonizzato nel 1726, fu proclamato nel 1926, dottore della Chiesa.